Martina Guigli, l'Italia è uscita sconfitta dall'Olanda, però la partita è quella che conta, forse è quella di domani. Sì, sicuramente, sapevamo che oggi era difficile, abbiamo accusato un po' della stanchezza, un po' sicuramente della loro pressione, ci hanno messo sotto pressione dall'inizio, con il loro servizio, con i loro colpi, hanno giocato molto bene sul muro difesa, sapevano esattamente dove mettersi, come mettersi, sicuramente Giovanni ha studiato molto bene la partita, quindi abbiamo avuto un po' un contrattacco un po' più faticoso. Da una parte lo sapevamo che era difficile, bisogna subito pensare a domani perché c'è una grande possibilità. Guardando il bicchiere mezzo pieno, se si può, pieno per un quarto, almeno aver giocato un incontro abbastanza breve e potrebbe essere un vantaggio per una squadra che dovrà giocare la semifinale, qualunque sia Russia o Turchia. Sicuramente è meglio di fare altri 5 set per arrivare un pochino più cari che domani, però penso che domani sarà una partita che si carica da sola, perché con la posta in gioco che c'è così alta, penso che le energie si trovano un po' da tutte le parti, quindi pensiamo subito alla squadra che arriverà domani e niente, dormiamoci sopra.